a poche ore dalla firma del contratto eccoci qui con Matteo Pisseri che ci racconta un po' innanzitutto com'è andata questa trattativa e quindi il suo arrivo in maglia grigia una trattativa è nata negli ultimi giorni e ho accettato un grande entusiasmo anche questa questa nuova avventura ecco descriviti un po raccontati un po nella tua carriera tante piazze importanti già un buon curriculum come portiere nonostante la giovane età quindi un acquisto in cui vediamo unite l'esperienza ma anche la qualità e probabilmente anche la voglia di fare una grande annata sì sicuramente è una tappa importante per la mia carriera importantissima vivere una società ambiziosa e ho tanta voglia di ricominciare perché sono fermo da parecchio è un momento particolare però la voglia la determinazione e l'ambizione non cambia stamattina un giornale ti definisce pararigori effettivamente è la citazione dei calciatori a cui hai imparato il tiro dagli 11 metri importante la cui è bello infantino però descriviti un po come portiere ma lo vedrete dai adesso non mi piace fare fare proclami però ci sarà modo di vedere penso di essere un portiere completo che in serie c'è tante esperienze cercherò di dare un contributo fondamentale alla squadra c'è il primo acquisto della nuova stagione cosa ti senti di dire ai tifosi alessandrini che aspettavano questo ingaggio so che il pubblico alessandrini è un pubblico molto caldo molto passionale sicuramente ci vuole tanto entusiasmo perché per fare cose importanti ci vuole un'unità di intenti da parte di tutti società giocatori staff e tifosi e ci vuole entusiasmo bisogna ripartire con entusiasmo bene allora ben arrivato grazie 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 grazie